per quello ecco e invece noi suoniamo dei brani contenuti invece nel cd che abbiamo registrato l'anno scorso che abbiamo presentato al Bruno Timbria in via Borsieri e l'ultima data l'abbiamo fatta allo spazio 89 abbiamo fatto quei 18 km di torne è stata una torne intensa distruttiva viaggi incredibili, pazzeschi, lunghissimi non dormivamo la notte, neanche i giorni portiamo ancora i segni di quella torne no, in verità è stato un disco è stato un giro, abbiamo girato un po' ovunque, Paolo, Gorgonzola Bellusco Bellano con una certa nicchia di persone e quindi vi presentiamo tre brani tratti da questo album che è in vendita di là, potete uscire senza sono già autografati con i vostri nomi e con i miei nomi lo so, lo so, sono troppo avanti questa funziona sempre solo che non ha chiatto a me ma lo sento che oggi la volta buona è una vostra una grande, avete un'occasione potete comprare e portare a casa una parte di noi e noi porteremo a casa una parte del vostro TFR chiamoceno anche cosa sia però a cittadini dei giornali si parla solo di quello quindi Blue State il brano si chiama Blue State come il disco Blue State thank you grazie 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 a tutti Grazie a tutti